benvenuti a questo nuovo appuntamento del caffè del viaggiatore qui sull'account instagram di che è il 12 tuo operato. Eccoti qua. Ciao Anna, benvenuta. Spero la luce non è il massimo ma la mia casa è un po' luminosa ci sono finestre ovunque questo è l'angolo più vicino al router per cui il collegamento dovrebbe essere migliore ci ha fatto faticare un po' diciamo la tecnologia io però ho fatto grossi progressi a livello tecnologico in questi due giorni veramente siamo diventata esperta. Sei diventata oltre esperto della colombia anche esperta di instagram. Esatto esatto così inizierò ad usarlo perché confesso che non era uno dei social che usavo normalmente. Ascolta innanzitutto così diamo ancora l'ultimo minuto per collegarsi come stai visto il periodo tua famiglia tutto bene? Guarda io non mi lamento perché sono fra coloro che possono dirsi privilegiati nel senso che vivo in mezzo alla campagna poco distante da Como ma intorno posso muovermi. Raggio 200-300 metri ma ho campi e boschi. Ho un bellissimo giardino e quindi mi sto dedicando al giardinaggio e i risultati si vedono per cui bene. Bene bene sono contento. Ho già visto che sono arrivato in qualche domanda e quindi stai pronta che i nostri amici a casa sono molto interessati. Allora io inizio con la nostra scaletta quindi così rompiamo un po' il ghiaccio. Stiamo parlando di Colombia, paese affascinante. Qual è il tuo primo ricordo di questo paese? Ok il primo ricordo risale a tantissimo tempo fa. In realtà il primo viaggio non è così lontano proprio perché come sapete la Colombia ha vissuto più di 50 anni di un conflitto latente magari a bassa intensità ma in realtà molto doloroso e molto sofferto e quindi il turismo sostanzialmente era poco diffuso in quel paese. Ho qui un libro che forse non è facilmente riconoscibile perché non ha un titolo apparentemente però lo apriamo. C'è Cien años de soledad e voi lo vedrete al contrario. Comunque qui c'è una data 1977 Madrid. Ecco il mio primo incontro con la Colombia risale al 1977 a Madrid quando studente di lingua spagnola all'università stavo perfezionando il mio spagnolo. Ho incontrato questo libro che mi ha accompagnato diciamo poi in un esame proprio quindi l'ho letto e approfondito e poi ho rincontrato questo libro varie volte nella mia vita perché è un libro che se si ama va riletto in diversi periodi della vita. E non ultimo negli ultimi anni accompagnando parecchi gruppi appunto lungo la ruta dei Macondo che abbiamo inaugurato noi come Kel 12 che parte da Santa Marta ovviamente non in assoluto ma per il turismo italiano diciamo che parte da Santa Marta continua con Aracataca la Macondo di Marquez prosegue per quel gioiello che è Mompox e termina nella città più bella del mondo che è Cartagena. Ecco questo libro insieme ad altri di Marquez mi aiuta anche a raccontare il paese proprio perché la letteratura spesso e volentieri racconta più di quello che sono fa capire di più quello che possono essere dei saggi o altri o altri approfondimenti. Io sono andato un po' in curiosa e ho trovato questa foto dove ci sei te. Ah bene io vedo un po' male però la intuisco perché le foto sono foto mie sì perché la linea è quella che è quindi io mi auguro che l'audio funzioni. L'audio funziona benissimo vai tranquilla. Ti ringrazio ecco quando non funziona magari ditemelo e magari mi fermo un attimo e lascio la parola a voi non c'è niente di peggio che il pesce che davanti allo schermo fa movimenti con la bocca e non si capisce bisogna leggere il labiale. Allora quella foto è una foto che sono molto affezionata, è esattamente a Rakataka, è la casa del premio Nobel, è la casa di Marquez che è in buona parte ricostruita in realtà solo il quarto dello Sguajiros della servitù diciamo così che veniva dalla Guajira de Waiu. Era autentico, è originale però è ricostruita con estrema attenzione e sono stati gli stessi Marquez, in particolare il suo fratello Jaime, il fratello numero 8 che ha seguito la ricostruzione di questa casa e quindi è molto bello, è diventato un museo la sua casa, è molto bello andarla a visitare. Ci sono tra l'altro sui muri tutta una serie di pannelli che riportano frasi prese dai suoi libri, quindi insomma è proprio un viaggio nei libri di Marquez visitare questa casa. In realtà a Rakataka è un piccolo paesino, vi dicevo, è un po' il mio luogo del cuore, ma Kondo e Rakataka oggettivamente come Xenagnos de Soledad è il mio libro del cuore. Non c'è moltissimo da vedere a Rakataka ovviamente perché è un paesino povero, adesso un pochettino più grande di quelle poche case d'argilla e di frasche che vengono descritte nel libro che si riferisce a fine ottocento, inizio novecento, raccontato da Marquez. Ecco, però se uno è un appassionato lettore di Marquez, allora sicuramente può apprezzare anche il camellon dello Salmendros, la stazione. Io purtroppo non vedo, credo che tu abbia messo la cartina. Sì, perché ci stanno scrivendo a casa che non si vedono le immagini e quindi siamo andati di cartina. Infatti, esatto, anch'io vedo le immagini, la vedo molto pixelata. Ora, se la mia faccia è pixelata poco male, mi dispiace per le immagini. Allora cerco di raccontarvele, di raccontarvele un po' io. L'ho messa una così, vediamo se questa magari ci... Sì, potrebbe, però... Ma lasciale che magari se migliora la qualità della connessione magari riappaiono, ecco. Comunque adesso sembra un affresco, non riesco neanche io che le ho fatte a capire oggettivamente a cosa si riferisce questa immagine. Quindi magari passane un'altra. Ecco, comunque parlavo del fratello di Jaime Marquez, il fratello numero 8. E devo dire che ho avuto la fortuna, ecco, non di conoscere ovviamente García Marquez, ma di conoscere suo fratello, che è stato un po' il mio... così mi ha accompagnato alla conoscenza soprattutto di Cartagena, che è la città che Marquez amava di più e dove aveva scelto insieme a Ciudad del Mexico di vivere. E mi ha accompagnato a visitare alcuni di queste che ritroviamo nei suoi libri. diciamo che... qua mi mandano messaggi e mi sa che ci sono un po' di problemi. Comunque noi continuiamo. Vediamo, speriamo che... Ci sono... sì, ci sono un po' di... perché non vedo sul webinar sulla Colombia anche una diretta. Continuiamo così senza immagini, Diana, perché così magari non carichiamo troppo i server che in questo periodo sono... Vedi tu come... come preferisci, come preferisci. Allora, stavamo parlando quindi un po' di... di Colombia, ci hai già detto diversi luoghi a cui... a cui sei... a cui sei legata. C'è un luogo... uno particolare in cui... che vuoi consigliare? Questo diciamo... ho già risposto un po' a questa domanda... La Marte arriva a Cartagena ed è la ruta de Macondo, per cui è proprio quello che io amo di più, dove torno sempre volentieri. La zona caraibica, la zona anche più... più allegra, più vivace, è il nostro meridione praticamente. Ecco, lì è al contrario. Ma se dovessi descrivere un colore, c'è un colore particolare di questo... di questa... di questa Colombia? O è un insieme di Colombia? Sì, sì, bravo, hai ragione. È un insieme, nel senso che è un paese un po' come l'Italia. È un paese... che offre tutto. Offre addirittura due oceani ed è l'unico del Sud America ad offrire due oceani. Centro America no, d'accordo, ma come Sud America sì. E offre le Andi, arriviamo quasi a 7.000 metri, a 6.700 metri, offre il deserto della Guajira, del Tatacoa, offre tutta una zona di savane tipo quelle, diciamo, che incontriamo poi in Venezuela, tutti gli altipiani orientali. Quindi poi ci sono le sienagas, tutte queste paludi, queste lagune, fiumi molto importanti. Insomma, l'Amazzonia ovviamente ha tutto un'area amazonica e la parte occidentale, che anche quella ha una vegetazione di quel genere. Quindi, dal punto di vista naturalistico, magari poi approfondiamo, è estremamente variegato. Dal punto di vista della popolazione, idem, perché non ha una grossa popolazione indigena, come possono avere la Bolivia, che io amo, perché anche a quello ho dedicato molto, molte delle mie energie, o il Guatemala, però ha una popolazione meticcia molto ampia, sia afrodiscendente che discendente dagli indigeni spagnoli, dalle due mescolanze, meticcia, diciamo. Ha una popolazione anche bianca, anche di europei, non semplicemente spagnoli, europei orientali, quei famosi turcos di cui parla Marquez. Per cui, questa mescolanza di popolazione, questa varietà di ambienti, ne fanno un paese dai mille colori, veramente, e quindi dalle mille sfumature di colore e di pelle. Anna, la cosa bella di questi spazi, o questo momento qua, è l'interazione con gli amici a casa. Ci stanno facendo anche la regia, perché mi dicono, adesso si vedono, prova a mettere le immagini. È proprio una cosa, veramente, che nasce così, in divenire. Giustamente, riprova, comunque sei tu il direttore d'orchestra. Infatti, vedi, forse adesso si possono vedere le immagini. Io sono lo strumento, e speriamo che Instagram ce la mandi buona, perché ce l'ha fatto faticare abbastanza. Abbastanza, esatto, esatto. Guarda, ti metto un'immagine che è iconica, molto famosa, però almeno così, forse se Instagram non ce la manda bene, siamo abbastanza tranquilli. Allora, passiamo già a quello che era un po' l'argomento, direi, di questo. Esatto. Allora, senti, io avevo preparato, qui sono con il computer, vediamo se riesco, ecco, esattamente, quando uno lo cerca poi non lo trova più. Avevo preparato, ma non c'è più. Una musica, una musica di Juanes. Si vede che ho cliccato qualcosa di sbagliato e niente, a questa rinunciamo la musica. Comunque, perché? Perché era una musica particolarmente adatta al contesto, all'argomento con cui volevamo un po' introdurre questa, così, parlando con Filippo, insomma, cercando di creare un po' una scaletta su questa, anche se poi andrà a braccio, secondo delle domande che voi ci farete. Ecco, avevamo pensato di partire proprio dai graffiti, dai quelli che noi chiamiamo murales, pur con parola spagnola in italiano. Perché? Perché praticamente i graffiti, si può fare un tour, un giro, un viaggio in Colombia, proprio nelle città, soprattutto, perché chiaramente è un'arte urbana, è una street art, è un'arte soprattutto urbana, anche se per inciso la troviamo anche in alcuni tipo guatapè più tradizionale, con dei zoccalos dipinti, eccetera. Però i veri e propri graffiti murales, li conosciamo in Messico, li ritroviamo in Colombia, li ritroviamo anche nelle nostre città, ho visto che adesso c'è un sito internet a Milano, proprio che collega Milano-Torino, con tutta una serie di graffiti che si possono visitare virtualmente, oltre che fisicamente. Ritornando quindi a questo argomento, perché sono così importanti però per la Colombia? Perché hanno permesso non soltanto di arredare la città, non soltanto di renderla più allegra, di dipingere, di dare spazio ai giovani, eccetera, ma perché non sono visti come atto vandalico, come viene spesso visto altrove, in Italia, in Europa, in diversi paesi al mondo, sono assolutamente leciti, basta chiaramente che uno prima di dipingere la casa di qualcuno gli chieda il permesso, ecco. Una volta accordato il permesso si può fare e oltretutto quei muri che vengono dipinti sono più rispettati anche dagli altri graffitari, eccetera, o magari vandari di muri, proprio perché vedono che c'è un'opera d'arte di un loro collega, perché poi sono di fatto artisti, molti di costoro, e quindi lo rispettano. E questi graffiti in alcune città, fra le più che hanno una fama peggiore, parlo di Medellina ad esempio, che con tutti i film sui narcos che avrete sicuramente visto, ha questa fama di città di delinquenza, pericolosa, eccetera, è una città che ha saputo riscattare questo passato assolutamente tragico e assolutamente sofferto, perché è veramente il periodo di Escobar, abbiamo visto i film, non è certo, non si può negare, come anche fino all'inizio del 2000 la situazione era molto difficile. Poi c'è stato un progressivo, grazie anche dei sindaci illuminati, un recupero delle periferie soprattutto, con una serie di mezzi, i trasporti sono stati fondamentali, perché hanno organizzato sia con i metro che con le funivie, quelle che per noi sono andare a sciare, lì invece collegano le varie aree periferiche della città, sia le scale mobili, le scaleras electricas della Comuna Trese, ecco tutti questi, il sistema di trasporti molto articolato e molto differenziato permette di unire centro e periferia, quindi nel frattempo vedete scorrere le immagini di un po' di murali, ma si vedono delle varie città, Bogotà, Medellin e Cartagena sono mescolati, però più significativo è proprio Medellin di cui vi sto parlando, perché questi graffiti hanno permesso il recupero di un quartiere come la Comuna Trese, che era uno di quelli più drammatici per la delinquenza, dove reclutava tutta la sua mano d'opera, diciamo così, Escobar, e è diventato un'area dove ci sono decine e decine di turisti accompagnati dai giovani del luogo, che quindi hanno trovato chi facendo questi graffiti, questi murales, anche artisti stranieri, chiaramente non solo colombiani, comunque, chi accompagnando i turisti hanno trovato un riscatto, hanno trovato un lavoro, hanno trovato un orgoglio e quindi è bellissimo, ci andiamo, quando facciamo il giro su Medellin andiamo sempre in questa area, accompagnati da persone che ormai sono diventate amiche, che ci mostrano con grande orgoglio proprio il loro quartiere, ecco, quindi graffiti come riscatto. Due parole sui graffiti, vedete che stanno girando un po' il colore, quello ovviamente che li caratterizza, però sono molto diversi come tipologie, alcuni sono un po' più sognanti, più onirici, altri invece sono più politici, più forti, altri cercano di recuperare un po' il passato e riscattare un po' questo passato indigeno che la Colombia ha a lungo negato e solo in anni relativamente recenti ha riscoperto anche come patrimonio culturale che poi troviamo in un museo che è uno dei più belli al mondo, che è il Museo d'Oro di Bogotà, insieme ad altri musei locali, sempre Museo d'Oro, che ci sono in altre città della Colombia. Tu devi fermarmi, se no io non mi fermo. No, non c'è problema, non c'è problema. Qua dobbiamo stare veramente molto, ripeto, col contagocce a far vedere foto, quindi c'è sempre il rischio che non si veda, quindi non esageriamo, se no rischiamo. Ok, questa comunque è Cartagena, vedete che è un po' più... Tanto i tuoi racconti sono molto belli e quindi diciamo che le foto vanno solo a... Grazie, a completare un po'. Esatto. Questa è Cartagena, vedete che è più afro, perché chiaramente tutta la parte afrocolombiana, afrodiscendente, è soprattutto a nord, nella zona caraibica e nell'Atlantico, lungo l'Atlantico, cioè si sono stabilite le popolazioni nere, una volta che si sono liberati, che è terminato lo schiavismo, appunto con il nuovo... quando è diventato uno stato sostanzialmente la Colombia, l'indipendente, ecco, è eliminato lo schiavismo e si sono stabilite nelle zone un po' più tropicali per loro, quindi più consone, più affini alle loro caratteristiche, ai loro gusti. Ne ho altre anche molto belle, anche questo. Ecco, qui vedete già un po' più di denuncia e questa invece indigena, chiaramente. Ci sono degli indigeni anche Quechua verso il sud, verso l'Equadora. Questo non si vede, questo, questo, guarda che bello questo. Ecco, questo è un po' più onirica, come vi dicevo, perché poi il discorso anche delle droghe, quelle che noi consideriamo droghe, in realtà ci sono tutta una serie di... tipo l'ayahuasca, molto diffusa nella zona amazonica, quindi non parlo di cocaina in questo caso, magari di foglie di coca che tutt'altra cosa. Ecco, questo tipo di droghe erano e sono tuttora ammesse per la popolazione indigena, perché fa parte della loro tradizione culturale e religiosa. Proviamo ancora con un paio, eh? Vediamo questo. Questo invece più la pace. L'ho messo anche perché pensando alla Pasqua che si avvicina, ecco, ho messo le ultime alcune foto proprio, vedete questa donna che prega, vedete il cuore, adesso mi immagino che sul telefonino i dettagli non si possano notare. Ogni artista ha proprio un suo stile personale, sono firmate ed è assolutamente riconoscibile lo stile di ogni artista. Per cui la colomba della pace, la preghiera e il colore. Anna, io direi, iniziamo con le domande a casa, perché ne ho visti già un paio, quindi passiamo le domande a casa. Comunque tu continua a fai passare le foto, così se c'è qualcosa che mi viene in mente da dirvi ve lo dico. Esatto. Dimmi. Esatto. Domande a casa, io intanto invito soltanto a farci le domande, perché ne ho visto un paio che sono passate via e le abbiamo già perse. quindi, se siete interessati, scriveteci nel box dove c'è il punto di domanda. Così per noi è molto più facile riuscire a prenderle. Vabbè, qualcuno vedo che scrive, perché leggo anch'io qualcosa, dovrei mettere gli occhiali, però che voglia di partire. Mi fa piacere se riesco a comunicare questo desiderio di partire. Ecco, l'ho fatto anche come augurio oggi, diciamo è tornata la primavera, torneremo a viaggiare anche noi, sicuramente. Ecco, questa è una domanda classica che ci fa la ramica Piera e ci chiede qual è il periodo migliore per viaggiare in Colombia. Allora, qui ritorno a un po' quello che ho detto all'inizio, cioè è estremamente variegata la Colombia come altitudine, quindi non dipende tanto dalla stagione, ma dipende anche da dove si va. Chiaramente siamo ai 2600 metri di Bogotà, siamo a livello del mare a Cartagena. La zona occidentale del Pacifico, dove noi non organizziamo dei turi, io sono stata, c'è il passaggio delle balene, è comunque bello, però è una zona turisticamente ancora, neanche turisticamente, oserei dire, veramente povera, oltre che permangono, come tutti sapete, delle problematiche anche di produzione di coca, oppure trasporto di coca attraverso la Colombia, cronaca d'altra parte dei giornali, e quello è un po' proprio il corridoio, il corridoio che poi arriva fino al colfo di Urabà e sale attraverso Panama e il centro America. Quindi la Colombia è un paese oggi assolutamente visitabile, in totale tranquillità, o comunque con gli stessi rischi che può darci un altro paese anche europeo, però ci sono delle zone che non sono ancora così controllate, dove è meglio evitare di andare. Ecco, quella zona, quel corridoio, diciamo, è meglio evitarlo, perché ne parlavo, perché in quella zona, ad esempio, piove moltissimo, è la zona più piovosa della terra, quelle sono le palme di Cocora, è un'altra zona bellissima, l'Eche Caffetero, siamo lì in un luogo, e la zona anche poi si arriva fino a Medellina, chiaramente, ecco, è una zona, la chiamano dell'eterna primavera, quindi rispondendo alla domanda di prima, se andiamo nella zona delle colline fra le due cordigliere, le cordigliere sono tre in realtà, qui parliamo di cordigliera centrale e orientale, è chiaro che il clima è molto più mite e quindi in qualsiasi stagione va bene. Quindi, riassumendo, tutte le stagioni vanno bene, esiste un invierno e un'estate, chiamati così, non esistono le quattro stagioni, l'invierno per loro va ad aprile a novembre e può piovere un po' di più, soprattutto verso novembre o verso aprile, però dipende molto dalle zone, alcune zone sono piovosissime, come vi dicevo, la zona pacifica, alcune zone sono aridissime, come la zona della Guaira o il deserto del Tatacoa e alcune zone sono sempre miti, alcune zone sono sempre un po' fredde perché in altitudine, addirittura al Paramo c'è sempre una sorta sui 3.500, 4.500 metri di pioggerellina, di umidità continua, quindi è molto, molto variato il clima. Tendenzialmente da novembre a aprile è leggermente più secco, anche un po' più ventilato nelle zone tipo Cartagena dove il caldo può diventare un po' Santa Marta, Cartagena, il Caribe, il caldo può diventare caldo umido, un po' opprimente e quindi sarebbe consigliabile quel periodo, però, c'è un però, i colombiani amano far festa, sempre comunque, per cui si appena possono, i ponti sono tutti loro. Se c'è un giorno infrasettimanale di festa lo spostano al venerdì o lunedì per fare un ponte lungo, quindi sono sempre appena possono in vacanza e si muovono nella loro Colombia. Per cui il Natale, soprattutto gennaio-febbraio, appunto quel periodo, direi Natale-gennaio, quelle festività, sono molto gettonate dai colombiani e quindi i costi aumentano e non di poco. Bisogna prenotare con largo anticipo per trovare le sistemazioni di un certo standard a cui noi ci rivolgiamo e c'è molto più affollamento, comunque anche nei parchi, mettiamo il Tairona, eccetera, per cui ci sono dei pro e dei contro. Quindi direi di non fare della stagione uno dei criteri principali per muoversi in Colombia. Ecco, poi ci sono le festività, ovviamente, il Carnevale di Baranchiglia può essere una, piuttosto che la Feria della Sflores a Medellin, piuttosto che la Semana Santa, che si celebra, si ama un po' che a Popayan. Ecco, quindi, ovviamente, se uno vuole andare a partecipare a una di queste in queste occasioni, deve scegliere il periodo adatto. Stiamo portando delle foto molto belle di Cartagena, coloratissime. Ecco, pensate che Cartagena era tutta bianca inizialmente, per le questioni anche dell'epidemia, eccetera, e poi invece è stata diffinta con questi colori vivacissimi. Popayan è rimasta bianca, un'altra, ci sono diverse le città coloniali, Popayan, Villadeleva, Cartagena e Bariciara, sono molte, insomma, non si fanno tutte, perché ovvio, se no, ne faremmo un'indigestione. Insomma, la Colombia è grande, quattro volte l'Italia. Ecco, Cartagena è imperdibile. È un piccolo gioiello dentro la città muragliada. È fin troppo un gioiello, nel senso che è una vera e propria cartolina, un po' espropriata degli abitanti originari, perché adesso sono molti alberghi, chiaramente, i monasteri sono diventati dei meravigliosi hotel, piuttosto che negozi molto belli, molto, insomma, con un ottimo livello anche per fare acquisti di artigianato, eccetera, e di arte, però si paga un prezzo, chiaramente, in questo caso al turismo, però è una sorta, se posso fare un paragone, di Havana, per chi conosce l'Havana, è proprio la sorella dell'Havana, con la stessa tipologia di mura, tra l'altro, non vi sto adesso a raccontare, ma l'origine è la stessa e molti erano ingegneri italiani che le hanno costruite, che lavoravano per gli spagnoli, con la stessa architettura coloniale, con la differenza che l'Havana è ancora un po' trascurata, per tutte le motivazioni che sappiamo, insomma, quindi decadente, in certi luoghi, purtroppo, anche i palazzi vanno in briciole, invece il centro di Cartagena è perfetto. Noi privilegiamo l'area del Getsemaní, che è sempre dentro la cinta muraria, la ciudad ammuragliada, però è il quartiere che ai tempi era quello dei commercianti, degli schiavi, e dove sono rimasti ancora più, diciamo, ancora degli abitanti colombiani, e poi molti più giovani e più vivaci, ecco, è un po' meno turistica, pur essendo anche quella comunque una destinazione che, anche durante la guerra civile, è sempre rimasto un luogo dove si poteva andare, insomma, turistico. Anna, non so se vedi le domande, adesso te ne metti una. Ah no, scusa, io non le sto leggendo, sto pensando, sto leggendo. Te la mando, te la mando io in onda, ce ne sono tante legate all'itinerario, no? Te ne prendo una che ci consiglia un itinerario, quindi per circa otto giorni ad agosto, o comunque qual è l'itinerario più completo, cioè sono tantissime che fanno proprio queste cose. Sì, allora, otto giorni è troppo poco, calcolate che voli diretti non esistono, bisogna andare o via Amsterdam, che potrebbe essere più diretto sul ritorno, con la KLM o l'Air France, ma in genere quelli che è servito meglio tutti i giorni, eccetera, e via Madrid con Aeropropa o altre compagnie, per cui a Bianca, eccetera, per cui è comunque abbastanza lungo andare in Sud America, al di là del costo, eccetera, insomma, ci si mette, bisogna un po' recuperare il fuso orario, e anche quello diamoci un attimo il tempo per godere poi dei luoghi, insomma. Bogotà, che potrebbe essere città di 10 milioni di abitanti, quella col traffico peggiore al mondo se non è la prima e la seconda, non ha una metropolitana, potrebbe spaventare, uno dice arrivo e parto. Bene, io tutti i gruppi che ho portato hanno sempre detto non stiamo abbastanza tempo a Bogotà e ci stiamo sempre due o tre notti a Bogotà, calcolate, oppure ci ripassiamo perché il sistema dei trasporti, proprio per questa storia di guerra civile sofferta e anche di conformazione con le tre cordigliere, quindi in senso verticale e non orizzontale, non si è mai sviluppato molto, le strade lasciano un po' desiderare e quindi molto, anche per la grandezza del paese, eccetera, e quindi ci si muove molto in aereo e purtroppo si fa spesso capo a Bogotà, quindi tante volte i voli interni raddoppiano, diciamo così. Ecco, quindi dal punto di vista logistico, arrivarci, muoversi all'interno del paese è un certo impegno, è un viaggio che, voglio dire, non è scomodo perché le infrastrutture non mancano, ma per andare ad esempio a San Agustin, che secondo me è uno, per chi ama l'archeologia, è un luogo di grande bellezza. Anna, scusa se ti interrompo perché, guarda, c'è proprio una domanda di Luigi che ci chiede proprio quello. Cioè, per un appassionato di archeologia, consiglio di San Agustin, Luigi, ah ok, Luigi, benvenuto Luigi, ben ritrovato. Allora, sì, assolutamente, nel senso che, come vi dicevo, noi abbiamo due itinerari base, uno che privilegia Leche Caffetero e Medellin e quelle palme di cocora che avete visto, le coltivazioni del caffè, che è molto bello, molto rilassante, molto piacevole e un po' meno impegnativo dal punto di vista del percorso. Lì non si fa la parte archeologica, le parti archeologiche, oltre al Museo de Oro, importanti, diciamo, in Colombia sono due. La Tejuna, che è la Ciudad Perlida, che però comporta un trekking al di almeno cinque giorni, molto impegnativo e che quindi non è alla portata di tutti. E l'altra invece che può essere alla portata di chiunque abbia voglia di camminare due, tre ore, insomma c'è una giornata sui giù si cammina per questi resti archeologici, che è appunto San Agustin e Isnos, sono due parchi. In realtà è una grandissima necropoli, enorme, la più grande necropoli del Sud America, in parte con anche terra dentro si allarga ulteriormente, in parte scavata, in parte no. Allora, San Agustin è meravigliosa. Nella mia guida a Bolivia io le ho dedicato molto, molto approfondimento. Perché? Perché si sa pochissimo di questa cultura. Si chiama di San Agustin, che non è il suo nome, gli è stato dato ovviamente un nome europeo, non c'entra nulla, proprio perché era già scomparsa quando sono arrivati gli spagnoli, quindi è un po' come Tijuanaco in Bolivia. Quindi, ma Tijuanaco a limiti resti c'erano, le pietre sono state utilizzate dagli spagnoli per altre costruzioni, lì invece erano questi, come dire, pancioni, come li chiama la nostra guida un'amica Paloma, questi pancioni coperti di terra, per cui, e sotto questi c'erano delle tombe, quindi anche le statue non erano visibili, a meno che dei guacheros, cioè quelli che vanno i cacciatori di reperti archeologici, eccetera, i tombaroli, le avessero aperte. Altrimenti non si vedeva praticamente nulla. Perché? Perché loro le statue le mettevano sottoterra come guardiani di questi defunti. Adesso le statue sono state portate fuori da terra, per cui bisogna anche un po' immaginarselo com'era, per permettere la fruizione. Alcune sono state anche portate in Europa, purtroppo, da molti archeologi, però ce ne sono moltissime, ecco, in loco, in situ. Ed è di grandissimo interesse questo luogo, perché è un luogo di culto, di culto della morte, ma anche della vita. Io ho parlato di necropoli, ma in realtà è anche un luogo di culto della vita. Ci sono delle statue meravigliose che rappresentano il parto, ad esempio, c'è tutta una componente femminile molto importante in queste statue, donne incinte, eccetera. E a differenza, non so, di un'iconografia come quella dell'Isola di Pasqua, dove le statue sono tutte identiche, di fatto, cioè quello è la logica, possono essere un po' più grandi, eccetera, però sono tutte fantastiche l'Isola di Pasqua, senza nulla, non volendola sminuire. Però invece a San Agustino sono tutte, ognuna, diversa dalle altre. Quindi è una cosa. Oltretutto c'è un discorso anche del doppio, di un discorso di psicologia, che adesso non faccio, perché altrimenti vado lunga. Hai parlato, hai accennato del trekking per la ciudad perdita, e infatti c'è stato chi ci ha chiesto com'è il trekking della ciudad perdita. Hai un po' risposto, però... Sì, allora, questo d'altra parte siamo lì, siamo in Instagram, c'è molto un pubblico di giovani, e quindi perché no? Il trekking della ciudad perdita, qualcuno può essere un po' deluso, perché è diventato anche quello un po' un percorso, come dire, un po' come il Cammino di Santiago, se potessi fare un parallelo. È bello, rimane bello, però è molto frequentato. Ecco, questo trekking, un trekking impegnativo, sono tre giorni ad andare e due a tornare. Di norma si fa così, si può ridurre a quattro giorni, ma se uno è veramente un buon camminatore. Ci si fa aiutare dai muli, si è per forza obbligati a essere accompagnati da una guida locale, e spesso sono guide cogi, è meglio essere accompagnato da un indigeno, perché il parco in realtà è territorio indigeno, e gli indigeni hanno permesso non più di scavare, ci sarebbe moltissimo da scavare ancora, ma invece non vogliono, perché, per rispetto delle loro tradizioni, dei loro morti, e quindi loro danno il permesso di entrare, però bisogna andare sempre attraverso un'agenzia autorizzata e sempre accompagnati da guide. E comunque, diciamo, è umido, non è tanto l'altitudine a cui si arriva, ma è un continuo saliscendi e può piovere. Ci possono essere anche zanzare in quella situazione. Diciamo che siamo in Caribe, ma siamo già nella zona interna, per cui questo caldo umido, insomma, bisogna essere fisicamente pronti ad affrontare queste fatiche. La soddisfazione è soprattutto quella del trekking, perché mentre a San Agustin, vi dicevo, è una meraviglia, si vedono delle cose notevoli, la Ciudad Perdida alla fine cosa sono rimaste? Era una città, una delle città Coghi, che poi sono state, era una popolazione fralettante, purtroppo, che sono state quasi annientate dal conquistadoro spagnolo, e quindi in questo luogo c'erano le loro capanne, che poi sono andate distrutte. Sono rimaste le piattaforme, sono rimasti i gradini, è rimasto tutto il sistema di distribuzione dell'acqua, eccetera. Però questo è quello che si vede. Anna, ho quasi l'impressione che vi siete messi d'accordo, scherzo, con le domande, perché le stai anticipando tantissime. C'è stato chi ci ha chiesto anche se si soffre l'altitudine come in Peru. No, assolutamente, perché di fatto a 2600 metri alla Pass, che è la capitale dove si arriva, ma viva Dio 2600 metri, anche quando si va a sciare, non è un problema praticamente per nessuno. E comunque, vi dicevo, meglio fermarsi un attimo, climatarsi, anche per il fuso orario, eccetera. E anche quando si va a San Agustino, che si attraversa una cordigliera e quindi si sale a un passo e ci avviciniamo ai 4000 metri, è proprio un passaggio che si fa di giorno. Si vede questo paramo che avevo messo una foto, non so se l'hai fatta girare, perché io poi seguo il mio percorso e non sempre guardo. Ok, comunque sono questi fra i lejones, che sono questa vegetazione assolutamente tipica della Colombia e diffusa in pochissimi altri paesi sudamericani, che funge da spugna praticamente, vengono chiamati frati, fra i lejones, perché da lontano sembrano quasi dei frati, la sera al tramonto. Funge da spugna, assorbe tutta l'umidità e poi la ridistribuisce e crea, questa invece è la selva, e crea quindi tutta quella ricchezza immensa di acqua che ha la Colombia, perché è un paese dalle risorse idriche enormi la Colombia. Ecco, non so, io potrei parlare delle immagini, ma se c'è qualche domanda, cosa ne pensa del Tairona? Il Tairona, ne vedo una io e rispondo. Allora, ecosistema, univo, figlio che anni sarebbe meglio. Comunque, il Tairona, cosa ne penso? Vi dicevo, in stagione, quando è stagione, indico sempre quando è stagione per i colombiani, è veramente molto, molto frequentato, diciamo così, e quindi può un po' deludere. Nel parco ci si può anche dormire, ci sono degli ecologi, ci sono dei campeggi, quindi ci sono sistemazioni di diversi livelli anche di costo. Ci sono anche molti, un parco un po' alternativo, nei campeggi, diciamo, ci sono giovani che suonano la chitarra, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, è molto pericoloso dal punto di vista dei bagni. Cioè, ci sono pochissime, è tutta una spiaggia, chiaramente, con alle spalle la selva, però la maggior parte delle spiagge ci sono dei cartelli dove c'è scritto, vuoi essere il centesimo vittima del… ecco, perché? Perché ci sono delle correnti molto forti che traggono in inganno e quindi anche i migliori nuotatori certe volte purtroppo annegano. Quindi si può fare il bagno solo in poche spiagge ben delimitate. Prima di entrarci fanno una specie di briefing, perché è un parco e sono molto attenti, per cui non vogliono che si entri, non so, bottiglie di plastica, insomma, danno tutta una serie di istruzioni ben precise e quindi bisogna, se uno ci va nella stagione in cui è più gettonato, è chiaro che, insomma, tutte queste persone che arrivano devono fare il briefing e si crea un po' una coda, ecco, in questo caso. Quindi andateci, andateci, è molto bella. C'è questo… anche un giorno solo da Santa Marta, fare tutto un percorso lungo la costa io l'ho trovato piacevolissimo, anche senza fermarsi a dormire. Fermandosi a dormire, volendo sfruttarlo un po', ecco, sappiate di queste problematiche per quanto riguarda i bagni e per quanto riguarda la frequentazione. Io ho trovato, prima mi era sembrato di vedere Providenzia, eccetera, ecco, io ho trovato quella molto bella. A me è piaciuta tantissimo, c'è la cultura Raisal, che è questa cultura nera, ancora diversa da quella caraibica e da quella pacifica. Parlano inglese loro, sono, sono, insomma, per tutta una serie di colonizzazioni nostre, un inglese un po' particolare, ovviamente, oltre che spagnolo. Ecco, io lo consiglio molto. Ci sono arrivate diverse domande, ce n'è una che è impressione, a proposito del deserto di Tatacoa o su Tierra Dentro? Allora, Tierra Dentro, esatto. Mi metto la cartina così, facciamo contenti tutti. Allora, quando parlavo di San Agustin, ho centrato su San Agustin, in realtà si fa un anello, praticamente un anello che da Popaiana, città coloniale, arriva a Neiva o viceversa da Neiva Popaiana, scusate, un anello, un semicerchio. All'interno di questo semicerchio ci sono queste visite che si possono fare. Una è quella del deserto del Tatacoa, che è un piccolissimo deserto, però con delle formazioni molto interessanti, che esiste lì in zona tropicale per qualche mistero di correnti per cui lì non piove, sostanzialmente, o piove in determinate stagioni, ma poi il clima è molto secco. Tra l'altro così secco che c'è anche un osservatorio per vedere le stelle. Ecco, se uno potesse, ci sono delle sistemazioni per fermarsi anche vicino la notte, anche se un po' più complicato. Questo è il deserto del Tatacoa. Tierra dentro è l'altro polo, l'ho accennato quando parlavo di San Agustin, è l'altro polo archeologico. Io privilegio San Agustin nei miei viaggi perché Tierra dentro, la parola già direi che è molto esplicativa, già gli spagnoli l'avevano chiamata così. Uno deve entrarci parecchio per arrivarci, una terra all'interno, chiusa, quindi è molto un percorso in autobus, chiaramente su strade, insomma, non sempre molto comode per arrivare. E poi queste tombe non sono come quelle di San Agustin, anche se la cultura è simile, se non proprio la stessa. Sono tombe ipogee in cui uno deve scendere, deve entrare. Chiaramente soffrono molto più l'umidità e una volta aperte subiscono tutta una serie di problematiche. Quindi alcune di queste, diciamo, sono molte, anche questa è una necropoli molto vasta, quelle visitabili sono meno. E comunque c'è un esempio nel Museo di Oro ricostruito ovviamente che dà un'idea. Quindi sono affrescate, con tutta la volta affrescata, ed è una cultura interessante quanto quella di San Agustin. Guarda che domanda che tu ho trovato. Il Museo dell'Oro. Il Museo dell'Oro è uno dei motivi per cui vi dicevo, quando vedo che chi arriva a Bogotà il giorno dopo riparte e non vede il Museo dell'Oro, dico vabbè, purtroppo l'eredità indigena della Bolivia, scusate ogni tanto, mescolo due paesi, della Colombia, cioè sono molto diversi in realtà questi due paesi, anche proprio per la componente indigena, si è andata perdendo con la conquista. Ma già originariamente la popolazione indigena della Colombia non era come quella dei vicini o relativamente vicini altri paesi andini, Peru e Bolivia, nel senso che non aveva delle grandi civiltà andine, degli orizzonti o delle civiltà più piccole ma comunque importanti che si sono succedute. Ha avuto tante piccole culture coeve o che si sono succedute, meno conosciute e quindi si fa un po' fatica anche a, diciamo, raccontarle. Non è come raccontare degli Incas oppure dei Maya, per dire per il Messico, stesso discorso di grandi culture del Guatemala, eccetera. Quindi tante piccole culture. Allora il modo migliore per approcciare queste culture, perché poi quello che oggi ci è rimasto sostanzialmente, è proprio la visita di questi musei dell'oro di cui il più grande, che è organizzato in una maniera fruibilissima, è il Museo d'Oro di Bogotà. Tra l'altro alla fine c'è una specie di esperienza sciamanica, di suoni nel buio, rumori, luci, che è veramente bella e che riproduce l'Eldorado. Perché sapete che il famoso mito dell'Eldorado di fatto è nato nella laguna di Guattavita, proprio in Colombia, era questo indio dorado che si immergeva tutto ricoperto di polvere d'oro nella laguna come offerta alla divinità del lago. Ecco, noi abbiamo la balsa, la balsa muisca proprio, che rappresenta questa cerimonia, che è piccola ma è di una perfezione incredibile, che è uno dei gioielli più belli del Museo d'Oro. Ne hanno trovati due, una purtroppo l'hanno portata in Europa e poi ne ho fragata e quindi si è persa. Fortunatamente è stata poi ritrovata quest'altra, ed è un gioiello. Per cui è un museo molto bello e imperdibile, ci si può tornare anche più volte. I musei, tra l'altro, in Colombia, proprio si ama la cultura in questo paese e i costi sono bassissimi d'ingresso, certe volte sono anche addirittura gratuiti, proprio per fare in modo che anche i colombiani possano andarci. E a Bogotà, oltre a quello, c'è il Museo Botero, che poi troviamo anche a Medellin, altrettanto interessante, ma ci sono tutta una serie di musei più piccoli, ma che riguardano la ceramica, che riguardano altre cose di archeologia, che riguardano la città stessa, anche in edifici coloniali, per cui un museo in dipendenza, dei trajes, dei vestiti. Quindi ecco qui abbiamo Botero, ecco qui è come ci ridurremo noi fra poco se continuano a tenerci in quarantena, cioè il prossimo collegamento sarà così. Perché le statue, per cui tantissimi musei che si possono vedere, ma i musei non possiamo farne tre in un giorno, insomma, per cui vanno un pochino dosati. Anna, ascolta, no, vabbè, Botero mi sa che qua così stiamo andando super lunghi e non abbiamo tanto tempo per parlarne. Però io ho visto anche tantissime domande molto tecniche. Invito tutti ad iscriversi alla nostra newsletter, quindi andate su www.kel12.com, vi iscrivete sulla nostra newsletter mercoledì prossimo, che deve essere il 15 aprile. Siamo io, Anna e anche un altro tour leader collegati proprio per fare tutti questi approfondimenti, perché qua così il tempo è un po' è il nostro spavore, quindi esatto, esatto. Però c'è una bella domanda, visto che siamo in un momento di aperitivo, quindi potremmo parlare quasi di cena e ci chiede, aspetta che l'ho persa, non la vedo più, i migliori piatti colombiani. Ok, allora i piatti colombiani sono piatti comunque abbastanza relativamente poveri, abbastanza semplice, la gasolina, ci sono molte zuppe. Ad esempio c'è l'achiaco, che è una zuppa, l'achiaco santaferegno sarebbe tipico di Bogotà, della zona di Bogotà. È una sopa, una zuppa fatta col pollo, con il mais, con tre tipi di patate locali, ci si mette l'avocado, eccetera, la guasca e poi anche il silandro, che è il coriandolo, che è un gusto che a noi non piace molto spesso e quindi bisogna magari anticipare e dire magari di non mettercelo. E questo è un piatto assolutamente tipico. Ci sono i pataconis, che sono le banane pressate, praticamente, chiamiamole frittate di banane, abbastanza. C'è l'arepa, l'arepa sono specie di panini di mais, praticamente piatti rotondi, che spesso vengono anche farciti con l'uovo o con altre cose. Ci sono le cocadas, che sono dei dolci a base di cocco, che sono molto chiaramente comuni nella zona del Caribe. Quindi, direi, la bandeja paesà, a chi piace la carne, c'è tutto di più, tutto. Qualsiasi tipo di carne lì c'è. E vuol dire proprio il vassoio paesà, che vorrebbe dire paesano dei paesà della zona di Medellin, dei contadini, dei coltivatori adesso del caffè, che è una bomba calorica. Era il loro pasto unico, piatto unico, per cui ci mettevano chiaramente tutto. E poi ci sono la frutta. Cioè, la frutta è una cosa incredibile. Loro bevono i succhi a pranzo e a cena. La cena in genere è meno importante del pranzo. Bevono birra, il vino è molto meno diffuso. Io pensavo, visto che più che un aperitivo era un caffè, mi ero preparato un caffè, ma è diventato freddo. Esatto, è un caffè questo. Le domande sono tantissime, davvero tantissime. Però purtroppo tra otto minuti Instagram ci taglia. Perché dopo un'uovo cade la tivetta. ripeto, per l'ennesima volta, se sono ripetitivo scusatemi, però davvero ci vediamo nel webinar. Abbiamo tutto il tempo che abbiamo bisogno per approfondire tanti temi. La Colombia ha una cultura vastissima e quindi sicuramente avrete l'occasione proprio per fare tutte le domande, sia quelle tecniche che quelle un po' più culturali. Perché non ho visto che ce ne sono tante, tante. Quindi per l'ennesima volta siamo contenti che questi appuntamenti vi piacciono e la vostra partecipazione è soltanto motivo di orgoglio per tutti noi. Ho l'ultima domanda, te la faccio io, Anna. Se hai tre libri da consigliare per chi vuole visitare. Ne ho troppi, non ne ho tre. No, dimmi tu. C'è gente che va via. State qua, perché comunque poi abbiamo anche una sorpresa. Quindi mi raccomando, state qua fino alla fine. Se Instagram ci toglie, in qualche modo torniamo. Allora, cerco di essere velocissima. Scusate, ma c'è una pausa pubblicitaria. Questa guida Colombia, che ho scritto io, sono 500 pagine. E vabbè, insomma, è un'introduzione al paese, non è solo una guida, è proprio un approfondimento del paese. Vi ho già parlato di Cent'anni di Solitudine, che secondo me è un libro che può veramente accompagnare questo viaggio, e poi me ne ero messa qui vari. Allora, due altri di Marquez molto importanti, dell'amore i otros demonios e l'amore ai tempi del colera, importanti perché ci parlano di Cartagena, e Cartagena è una cartagena dell'inquisizione nel primo libro, e invece Cartagena, diciamo, più recente nel secondo. Tra l'altro, l'amore ai tempi del colera, colera, riproduce un po' una situazione nella parte finale, questa barca che risale Rio Magdalena, sale e scende Rio Magdalena, dove i due amanti anziani sventolano la bandiera gialla del colera. Trovate anche il film su YouTube, per cui se non volete leggere nel caso i romanzi, e riprende un po' la situazione attuale, in cui siamo tutti un po' chiusi dentro le nostre case. Ecco, e ce n'è un altro che mi sarebbe piaciuto, anche se non riguarda strettamente la Colombia, è questo. Ed è una biografia di Andrea Wolff, anche questo un malloppo di 700 pagine, 600 pagine. L'invenzione della natura, le avventure di Alexander von Humboldt, l'eroe perduto della scienza. Allora, io ho scoperto questo, prima il mio eroe era Bonatti, adesso è diventato von Humboldt. Veramente è un personaggio eccezionale, è stato il primo ecologo. Mi ero messa qua per raccontarvelo. Questa foto che ha fatto lui del Cimborazo, perché lui per cinque anni ha attraversato il nord del Sud America, praticamente dal Venezuela, Colombia, Ecuador fino in Peru. Questi sono i livelli, i livelli, le altitudini. Cioè è stato lui il primo a capire che il clima dipende dall'altitudine e non solo dalla latitudine. Una cosa che per noi adesso è ovvia. E anche l'influenza dell'uomo sulla natura, purtroppo. Possiamo dire a tutti gli amici a casa che magari hanno fatto fatica a segnarsi tutti i titoli, che se vogliono ti possono scrivere qua sul tuo profilo Instagram che gli rispondevai direttamente. Guarda, o su Facebook oppure io ho un blog annamaspero.com, nome e cognome.com e lì è il modo più semplice per contattarmi per tutte le informazioni. Perfetto, almeno così se avete domande, perché ho visto qualcuno che ha chiesto i titoli esati dei libri, quindi potete contattare Anna che sicuramente... Mandarvi una biografia ben più vasta. Poi sulla mia guida c'è molto comunque nel caso, dal punto di vista anche della letteratura del luogo e dei libri consigliati, di quelli tradotti in italiano e la bibliografia finale, ovviamente. Anna, quindi dobbiamo partire il prima possibile per la Colombia. Appena ce lo permettono, eh? Appena ce lo permettono. Esatto, esatto. Pensa che in questo momento c'era il gruppo ovviamente fatto, io avrei dovuto essere in Colombia per fare la settimana santa, in questo caso Popayana, la Semana Santa di Popayana. Esatto. Da parte mia e da parte di tutti a casa, ti ringrazio davvero tantissimo. Se vuoi dare un ultimo messaggio agli amici a casa, che però, vi ricordo, state qua perché subito, tra poco abbiamo una sorpresa per tutti voi, quindi mi raccomando non scappate. Il mio messaggio è una frase di Marquez che dice La pace è come la felicità, se ne dispone soltanto per poco tempo e si sa quel che si aveva dopo averlo perso. Ecco, questo riguarda anche molto la Colombia perché ne dispone molto poco della pace e solo quando non ce l'hai ti rendi conto e adesso l'hanno quasi conquistata perché ancora non possiamo dire che è totalmente pacificata, però non torneranno indietro perché capiscono come è più facile iniziare una guerra che finirla. Un'altra frase di Marquez questa e questo si riferisce un po' anche al momento particolare e un po' difficile che stiamo vivendo tutti, no? La libertà, in questo caso non la pace, è una cosa che si apprezza nel momento in cui magari non ne disponiamo come vorremmo. Ecco, quindi il mio augurio è che ci sia la pace per la Colombia e la libertà di nuovo di poter muoverci a breve raggio, lungo raggio, come ognuno di noi preferisce. Grazie mille, Anna, davvero è stato un piacere fare questa chiacchierata con te. Grazie.